Finisce 2-2 il big match della seconda giornata del Girone H di Serie D tra Gelbison e Casarano. Si gioca sul neutro di Agropoli. Casarano in campo con il 4-2-3-1 con Rajkovic punta più offensiva. Dietro di lui Falcone Perez che prende il posto dell'infortunato Citro che parte dalla panchina e Versienti. Dall'altra parte Mister Monticciolo punta su croce, unica punta con Montinaro alle sue spalle. L'avvio è tutto della Gelbison con il Casarano che appare piuttosto compassato. Al terzo minuto la formazione di Vallo della Lucania è già in vantaggio imperioso. Lo stacco di croce che batte l'estremo difensore del Casarano Pucci. Subito 1-0 per la Gelbison. Gelbison che prova immediatamente a mettere in discesa la partita. Al settimo minuto ancora croce ispiratissimo, conclusione alta. Quindicesimo Montinaro tra i migliori in campo per la Gelbison. Sponda per Lollo para Pucci. Nel miglior momento dei padroni di casa, il gol del Casarano che gradualmente prende coraggio. Trentottesimo Falcone pennella alla perfezione per la testa di Rajkovic che vola più in alto di tutti e trova il gol dell'1-1. Cambia così l'inerzia della partita. La Gelbison prova però immediatamente a reagire. Minuto numero 45. Volè di croce. Pallone fuori. Con il montaggio passiamo alla ripresa girandola di Cambi. Dentro Ghionai, fuori Perez. Infortunato. Al tredicesimo si fa vedere nuovamente il Casarano che continua a guadagnare metri. Cerruti dalla distanza. Senza fortuna. Dentro anche Citro al posto di Falcone. Per il Casarano al trentatresimo. La formazione di Peppe la terza trova il gol che ribalta lo score. Tiandum più in alto di tutti. Palone che viene respinto a due passi dalla linea. Poi Celli è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Gelbison 1. Casarano 2. La vittoria sembra ormai in cassaforte ma al minuto numero 91. Barone riesce a trovare un gran gol in girata. Batte così l'estremo difensore del Casarano Pucci. Partita nuovamente in parità. E 2 a 2 la Gelbison che prova a premere nella finale e al 49esimo ha un'altra opportunità ancora con Barone. Non c'è più tempo. 2 a 2 giusto alla fine tra due squadre che saranno sicuramente protagoniste di questo campionato.